Dimissime ti saluto, cosa ne pensi degli sportivi di quelli che sono stati campioni olimpici e che scegli di andare a fare un reality show? Guarda, io come reality show ho voluto fare soltanto due reality, mi è piaciuto fare, Notti su ghiaccio, perché lì si mette in pratica la tua destrezza anche sportiva, e l'isola dei famosi, perché lì metti veramente a nudo quello che tu sei e devi imparare a sopravvivere, perché l'isola è veramente vera, come programma, mi è stato proposto anche di fare altri programmi che secondo me non l'ho voluto fare, mi è stato chiesto e non l'ho voluto fare, e ho risposto così, per l'amor di Dio, no. Assolutamente, ma che ne pensi di Schwarzer che si allena per l'Olimpiadi nella casa del Grande Fratello, sembra assurdo? Ognuno fa una scelta, io non voglio criticare a Schwarzer che ha voluto fare il Grande Fratello, è una sua scelta, mi è stato chiesto e io ho detto, ho risposto così, no, per l'amor di Dio. Grazie. Grazie.